Qui siamo nella biblioteca della scuola che ha oltre 15.000 volumi e che è uno spazio che viene utilizzato costantemente dai docenti e dai ragazzi per consentire un continuo supporto allo studio. Quindi la mattina ci sono ragazzi che vengono qui per studiare insieme ai loro docenti, magari nel momento in cui facciamo piccoli gruppi e per ogni pomeriggio c'è la possibilità di usufruire del supporto di docenti di italiano, matematica, inglese, scienze in base alle esigenze dei ragazzi e quindi una sorta di supporto allo studio pomeridiano totalmente gratuito che il nostro istituto offre e che sicuramente garantisce degli ottimi risultati in termini di profitto per quanto riguarda i ragazzi. Andiamo avanti. Qui. Questo è sempre una parte della biblioteca dove qui c'è sempre un docente che presidia la postazione in modo che i ragazzi possano usufruire dei libri e degli spazi che ci sono. Ovviamente a disposizione di tutti. Ogni tanto all'interno della biblioteca organizziamo degli eventi come ad esempio delle presentazioni dei libri, sempre con i ragazzi. Quindi prima si parte dalla lettura del libro e poi c'è l'autore che viene a discutere con i ragazzi del contenuto del libro e vengono fuori delle belle riflessioni e degli approfondimenti estremamente interessanti. Anche perché insomma la lettura è uno stimolo fondamentale alla crescita di ogni ragazzo. Grazie. Grazie.